Il piatto che presenteremo oggi è un millefoglie di manzo con lardo di colonnata, crema di zucca e tartufo e gocce di balsamico. Prendiamo i nostri filetti di manzo, li condiamo con sale, pepe, tartufo, poi andremo a mettere la zucca dentro il filetto. Unire il tutto, poi lo avvolgiamo con dell'ardo di colonnata, lo andiamo a stringere per bene. Prendiamo della carta da forno, un po' umida, andiamo a coprire e viene messa al forno per 180-18-20 minuti. Andiamo con l'assemblaggio del piatto, prendiamo il nostro filetto, mettiamo al centro del piatto, ci mettiamo un giro di patate rostì, spaghetti di riso fritti, rosmarino, una riduzione al balsamico, un po' di crema di zucca. Il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Grazie a tutti.